Volevo condividere con voi una riflessione. Lo sapete che l'Italia è un paese di non lettori? I nostri livelli sono in generale la metà del livello europeo e il 60% degli italiani non ha mai comprato neanche un libro nel corso di un intero anno, l'anno scorso. Anche la nostra classe dirigente, manager, politici, industriali non legge. E intanto il mercato del libro continua a perdere quota. Complessivamente su una popolazione di circa 60 milioni di persone il bacino dei lettori si è ridotto addirittura a 848 mila persone. Domandiamoci quale futuro ha un paese dove nessuno legge e dove gli ultimi acquirenti di libri sono mai in estinzione come degli animali rari. Andate in libreria, scegliete un libro da leggere prima che si concluda l'anno. Ne avrete beneficio voi, ne avrà beneficio l'editoria italiana. E se non sapete cosa leggere prendete uno dei miei libri sulla salute naturale, così ne beneficerà anche il vostro benessere. Grazie a tutti.